un saluto a tutti gli amici di tg smart news eccomi come già annunciato all'interno del parco della rocca di noceto alle mie spalle c'è la sala milli ma soprattutto di fianco a me abbiamo tata claudia di lorenzo ben arrivata buonasera ben arrivata claudia oggi ci sarà un concerto un tributo alla bravissima vanda landosca e tu sarai la sua portavoce oggi beh mi come dire mi onorerò di questo compito e la figura di vanda landosca è una figura quanto mai attuale perché parliamo di una donna che ha avuto il merito di riscoprire il clavicembalo la musica antica e ha regalato ai posteri un nuovo modo di intendere questa musica un nuovo modo nel senso che è una musica che non è mai datata non è mai passata di moda ma anzi ancora oggi e questa è la ragione per cui tributiamo questo omaggio a vanda landosca ancora oggi ha molto da dire è una un percorso musicale artistico che vogliamo tracciare insieme a mariella caruso e parleremo non solo di musica antica ma anche delle intromissioni degli strumenti antichi nel rock nella filmografia degli anni 50 e nella nella musica contemporanea non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie, bravissima.